La carta ha una sua vita, una sua trasformazione. Sono Domenico Galluzzi e sono uno dei nuovi maestri cartapestai del Carnevale di Potignano. Quest'opera fonde due concetti che possono essere quelli classici riportati nei Sette Vizi Capitali e nell'attualità con questi due satelliti che ho messo sulla periferia di questo carro che rappresentano un po' l'attualità, cioè il mondo che ci controlla, quello che ci mette nella vera gabbia. Quindi vorrei che questo carro porti un po' la gente a riflettere su quelle che sono le gabbie che ognuno di noi si costruisce e di andarci oltre. Grazie